Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. Apriamo con la cronaca e con l'operazione eseguita nel comune di Saracena dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale del Corpo Forestale dello Stato di Cosenza. I particolari con Dario Rondinella. Gli uomini del Nucleo Investigativo della Polizia Ambientale del Corpo Forestale di Cosenza nei giorni scorsi hanno accertato lo scarico sul suolo di parte delle acque reflue provenienti dalla rete fognere pubblica della comune di Saracena. L'attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovilleri, che ha visto impegnati anche gli uomini dei comandi stazione di Reino Borgo e Castrovilleri, è scaturita a seguito di una denuncia ed ha interessato gran parte della rete fognaria del Rione San Pietro. In particolare si è accertato che i liquami malodoranti e di colore torbido e corresivi di materiale solido provenienti da una condotta della rete fognaria dopo essere incanalati formano una cascata che attraversa un costone e scende fino al letto del torrente Garga, con conseguente danneggiamento ed alterazione dell'equilibrio chimico e biologico delle sue acque. Un ulteriore punto di scarico delle acque reflue, che confluisce sempre all'interno del torrente Garga, è stato inoltre scoperto nei pressi della centrale idroelettrica di proprietà dell'Enel, a valle dell'abitato di Saracena. A seguito di questi accertamenti si è provveduto il sequestro di un pozzetto di una parte della condotta fognaria, oltre allo scarico rinvenuto nei pressi della centrale idroelettrica. Si è inoltre provveduto il deferimento del sindaco e del responsabile dell'ufficio tecnico per violazione alla normativa ambientale. In particolare è stato violato il divieto di scarico di acqua reflue sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, omettendo il trattamento delle acque provenienti dagli stessi con conseguente immissione nel torrente Garga. L'attività di controllo è interessato anche l'impianto di depurazione comunale, situato in località San Vito, nel quale sono stati rinvenuti all'interno dei letti di essiccamento un cospicuo quantitativo di fanghi di depurazione ricoperti di vegetazioni, i quali non sono stati smaltiti per come previsto dalla normativa vigente. Per questo motivo si è provveduto il deferimento per gestione lecita di rifiuti del responsabile dell'azienda pluriservizi del comune che gestisce l'impianto. E ci spostiamo a Bagnara Calabra perché nel comune del Regino, dopo la gestione del commissariale, in primavera si andrà al voto. Abbiamo sentito il parere di alcuni cittadini. So che ci sono alcune voci, alcuni personaggi che sono portati da alcuni partiti. Sentivo dire che c'è qualcosa tipo Selle che ha un suo nome, tipo il PD, però nei particolari non so. Gli auspici per questo paese, cosa ha bisogno dopo questi 24 mesi di gestione commissariale? Ci sarebbe bisogno di una persona esperta che abbia la conoscenza della macchina amministrativa. Di cosa ha bisogno il paese? È una lunga lista, ha bisogno di tantissime cose, ma credo che soprattutto abbia bisogno di una prospettiva un po' sognante, di un posto che ha chiaramente una vocazione turistica e non la sa sfruttare per mancanza di iniziativa, per mancanza di visione di prospettiva. Professore Dato, già sindaco di questo comune, del comune di Bagnara Calabra, io le voglio sottoporre due questioni. Bagnara, comune sciolto per mafia e dissesto. Due situazioni abbastanza gravi per questa cittadina. Troverà il modo di risollevarsi? Fra una quindicina d'anni probabilmente sì, ma per il momento credo che ci sia una vacca magra per parecchio tempo. Sul dissesto il professore Dato ha sempre avuto una posizione abbastanza forte? No, io leggevo tranquillamente delle delibere fatte, delle situazioni come si dipanava a Bagnara e mi rendevo conto che stavano andando a sbattere contro il muro. Il giudizio su questa gestione commissariale? Molto modesto, praticamente secondo me la gestione commissariale è stata in continuità con un'amministrazione scadente. E ora abbiamo un altro cambio perché arriverà la dottoressa Tancredi? Non la conosco, non posso esprimermi, però i commissari si sono chiusi in un bunker, diciamo, non avendo contatti di nessun genere con la popolazione e praticamente non si sono resi conto che Bagnara non è un paese di mafiosi, è un paese che è incappato in una situazione brutta per errori di uomini. Il futuro, professore Dato, le forze politiche si stanno un po' muovendo, però troveranno la soluzione? Esistono le forze politiche a Bagnara, è una novità, perché io da parecchio tempo non vedo nessun'azione politica degna e significativa. Possono esistere delle singole persone, ma partiti politici a Bagnara non esistono, se non sulla carta. Gli eventi delle ultime settimane lo hanno dimostrato. I terremoti non si possono prevedere, ma si possono arginare gli effetti. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'Ordine dei Geologi regionale, Francesco Fragale. I fatti e l'esperienza parlano chiaro. Laddove si è costruito con le norme antisismiche, il sisma non ha creato gli stessi danni che si sono verificati altrove per terremoti di magnitudo minore. È accaduto in Italia, ma soprattutto all'estero. La prevenzione dunque è l'unica arma per combattere il sisma. Non è possibile del resto prevedere l'arrivo di un terremoto, ma è possibile ridimensionare gli effetti sugli edifici con costruzioni adeguate. Sappiamo che i terremoti non si possono assolutamente prevedere, però sappiamo dove si possono verificare, dove c'è più possibilità che questi si possono verificare. Come la prevenzione è l'unica arma che abbiamo noi per poterci proteggere dai danni che può provocare un terremoto, sicuramente costruendo, non è il terremoto che ci uccide o che ci fa male, ma sono le case che abitiamo, le infrastrutture, i ponti, le gallerie che magari noi percorriamo giornalmente per andare a lavorare e via dicendo. Allora il rispetto della normativa antisismica vigente certamente non annulla il rischio, perché il rischio non si può annullare, però lo riduce notevolmente. Un problema culturale è quello della prevenzione, ma anche normativo. In Calabria diciamo che abbiamo una legge regionale, la 3509, una legge di simica regionale che è una legge all'avanguardia, prevede la trasmissione dei progetti attraverso un metodo telematico, attraverso la rete. Noi come Orde dei Geologi diciamo sempre che deve andare in vigore questa normativa perché è diverso tempo che viene prorogata. Speriamo che dal primo gennaio 2017, così come è stato stabilito, entrerà in vigore il controllo di tutti i progetti, tutti gli interventi che vengono realizzati sul territorio. Spostiamoci all'Università della Calabria perché si è parlato di trend demografico della popolazione straniera in Calabria nella presentazione del dossier statistico immigrazione 2016. Di trend demografico della popolazione straniera in Calabria si è parlato presso l'aula a Caldora dell'Università della Calabria nel dossier statistico immigrazione 2016 realizzato dal centro studi e ricerche IDOS in collaborazione con la redazione della rivista Confronti e con la rete dei redattori regionali del dossier dove il capitolo inerente, i dati sulla Calabria, è stato redatto dalla dottoressa Roberta Saladino. L'andamento demografico della popolazione straniera in Calabria resta la stessa rispetto all'anno scorso ma si distacca leggermente a livello nazionale perché sia a livello nazionale tra il 2014 e il 2015 c'è un incremento soltanto pari allo 0,2% in Calabria invece l'incremento è pari al 6% quindi un incremento sostanzialmente alto rispetto alla media nazionale. L'identikit della popolazione straniera è soprattutto caratterizzata dalla forza lavoro quindi rappresenta l'82% quindi un'incidenza molto alta e noi ne beneficiamo perché la nostra popolazione in età attiva, quella italiana, è molto anziana quindi beneficiamo di questo ringiovanimento della popolazione straniera in età attiva molto giovane. Mentre con il dottor Giovanni Cucunato responsabile del centro per l'impiego di Cosenza si è parlato del ruolo in materia di politiche attive in favore degli stranieri che stanno avendo i 5 centri per l'impiego dislocati nella provincia cosentina. Quello che vorrei mettere in evidenza è questo mettendo a confronto i dati 2014 quindi la presenza stock lavoro, forza lavoro presente nei centri per l'impiego abbiamo un aumento quindi cosa vuol dire? che le persone che sono occupate grazie anche a questi servizi mirati per quanto riguarda l'anno 2015 sono circa 15.000 persone dati al 30 dicembre 2015 c'è un aumento di circa 5.000 unità che uniti anche ai ragazzi che vengono a dare la disponibilità quindi disoccupati e inoccupati abbiamo uno stock forza lavoro, cosa vuol dire? Giovani pronti per inserirsi nel mondo del lavoro che superano le 30.000 unità questo però non vuol dire che non ci sono difficoltà anzi in un contesto economico come il nostro non certo vanno a sostituire come si pensa il lavoratore calabrese o provinciale quindi il cittadino nostro ma sicuramente si sono inseriti bene. Parliamo ora di sanità e andiamo ad Acqua Pesa per un importante incontro promosso dall'amministrazione comunale e dall'associazione Borghi della Salute il servizio è di Fabrizia Arcuri Borghi della Salute potrebbero essere luoghi in cui si realizza le azioni organizzate a sostenere la salute, promuovere i benessere e migliorare la qualità della vita è stato l'assessore al turismo Lucia Vaccaro, referente del progetto a leggere il patto di collaborazione tra l'associazione e la cittadina delle terme luigiane un piano di sviluppo locale che mira la rigenerazione dei borghi attraverso interventi strategici che scaturiscono dalle peculiarità stesse e dalle eccellenze racchiuse nei territori e custodite dalle comunità già con la fiera del benessere che si tiene a settembre Acqua Pesa si è candidata a città della salute la cultura del benessere è uno dei pilastri su cui l'amministrazione ha scommesso con il proposito di creare l'Accademia del Benessere che convolga tutti gli attori del territorio e di concerto con gli altri comuni noi stiamo seguendo un percorso naturale che parte dalle terme luigiane, passa attraverso la fiera del benessere passa stasera attraverso i borghi della salute e troverà completamento con l'Accademia del Benessere è chiaro che questo progetto non lo vogliamo tenere nell'ambito del perimetro comunale lo vogliamo estendere a tutta la zona perché tutta questa zona diventa volano della promozione della salute Due sono gli elementi emersi in incontro di stasera termalismo e prodotto tipico come l'olio d'oliva I due prodotti che noi in questo momento promuoviamo e che riteniamo di qui a poco di farle diventare come dicevo prima il volano di tutto ciò il termalismo perché rappresenta la nostra maggiore risorsa l'olio d'oliva perché in Calabria forse o anzi sicuramente è il prodotto più in vista quindi qualcosa che è nell'ambito comunale o paracomunale o comunale di guardia piemontese è un prodotto regionale quello l'olio d'oliva Restiamo in tema di sanità perché attraverso una rivista l'associazione Apis Onlus di Cosenza vuole fornire informazioni utili ai cittadini Raffaella Santoro È un progetto attraverso il quale stare vicino alla gente fornendo informazioni utili in tema di salute Riprende le sue pubblicazioni il periodico di informazione e prevenzione Clinicard News realizzato dalla Apis Onlus di Cosenza Si tratta di un periodico che sarà infatti distribuito gratuitamente anche nelle scuole della città che concentra le proprie attenzioni sulla cura dello stato psicofisico e sulla qualità degli stili di vita della persona Oltre alla salute noi andiamo a coinvolgere specialisti e professionisti in modo da raggiungere degli obiettivi anche concreti insieme appunto all'amministrazione che vadano a dare a chi fondamentalmente produce benessere una vetrina in più per essere ancora più vicini alla popolazione, alla cittadinanza Sono passati un po' di anni perché con altre aziende siamo stati vicini a quelli che sono gli utenti degli operatori del benessere quindi abbiamo raccolto i loro bisogni e ora attraverso la carta e anche poi attraverso il digitale riusciremo a coinvolgere e a dare loro quelle risposte che vanno cercando Chiudiamo con la palla a volo perché la tono calipo Vibo Valencia dopo tre vittorie consecutive si ferma sul proprio campo contro Sora i laziali si impongono 3 a 2 sulla gara sentiamo il commento del palleggiatore di Vibo Valencia Manuel Coscione Sì, facciamo i complimenti a Sora perché secondo me ha fatto una gara perfetta sono stati molto bravi noi i primi due secondo me abbiamo battuto male e loro avevano sempre ricezione molto buona è diventato complicato dopo riuscire a stargli dietro poi siamo riusciti con un po' d'orgoglio il terzo e quarto set a imporci noi il quinto su un paio di episodi che non abbiamo un po' per bravura loro un po' per demerito nostro e alla fine la partita è finita 3 a 2 quindi è stata una gara tirata no, secondo me non è un problema di concentrazione ma problemi tecnici secondo me che abbiamo palesato durante tutta la partita è tutto per questo appuntamento con l'informazione l'informazione di Calabria News 24 torna alle ore 18 buon proseguimento di giornata